Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org La nuova frontiera dell'orrore si chiama compostaggio umano ed è già realtà in diverse regioni degli Stati Uniti. Si tratta di un nuovo metodo di smaltimento dei corpi dei defunti, metodo che consiste appunto nel compostaggio dei loro resti e nell'utilizzo del ricavato per fertilizzare gli alberi aberrante. Ciò accade già negli Stati di Washington per primo, poi in New York, in Oregon e in Colorado. Dal 2027 accadrà anche in California, dove lo scorso 18 settembre il governatore Gavin Newsom, democratico, ha firmato la legge Assembly Bill 351 che autorizza tale pratica caldeggiata dal deputato Cristina Garcia, pure democratica, convinta che tale metodo sia più economico e più ecologico della sepoltura tradizionale. Ma la modalità è lontana né luce dal concetto di corpo come Tempio dello Spirito contenuto nel Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 364, concetto che implica la più usanza di seppellire defunti con riverenza e grande dignità, non certo di trattarli come humus. Come si svolge la pratica del compostaggio umano? Il cadavere viene posto in un contenitore d'acciaio riutilizzabile e coperto di truccioli di legno, erba medica e altri materiali biodegradabili, assieme a microbi e batteri, per consentirne la decomposizione entro un mese e un mese e mezzo, fino a trasformarsi in una sorta di terreno ricco di sostanze nutritive. Prevedibilmente i vescovi statunitensi si sono già opposti con vigore alla nuova normativa. La risurrezione di Cristo è indicato con chiarezza il futuro eterno tanto per il nostro corpo quanto per la nostra anima, come si legge nel Catechismo. Con la morte, separazione dell'anima e del corpo, il corpo dell'uomo cade nella corruzione, mentre la sua anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi, riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione di Gesù. Il compostaggio umano ne rappresenta l'antitesi. Secondo Environmental Advocates of New York, si tratterebbe di un'alternativa ecologica, in linea con i programmi di riduzione delle emissioni di carbonio e di contrasto al cambiamento climatico. In realtà si pone in contrasto con la fede della Chiesa, poiché ricade nel divieto previsto dall'istruzione ad Ressurgendum Cum Cristo, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, nell'agosto 2016, la stessa che proibisce di disperdere le ceneri dei defunti o di tenerle in casa. In essa si legge, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro, ritenendo essere l'inumazione la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale. Spiega, seppellando i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede alla risurrezione della carne e intende mettere in rilievo l'alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia. Non può permettere quindi atteggiamenti e riti che coinvolgano concezioni errate nella morte ritenuta sia come l'annullamento definitivo della persona sia come il momento della sua fusione con la madre natura o con l'universo, esattamente ciò invece in cui cade in pieno il concetto e la pratica del compostaggio umano. Aggiunge ancora la congregazione per la dottrina della fede. La sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti che mediante il battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, come di strumenti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone. La pratica della sepoltura inoltre favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana nonché la venerazione dei martiri e dei santi custodendo così la comunione tra i vivi e i defunti evitando di privatizzare l'evento e la morte e il significato che esso ha per i cristiani. Anche il fatto che negli Stati Uniti il compost umano ottenuto venga restituito alla famiglia affinché scelga se spargerlo nel proprio giardino o donarlo a una struttura di conservazione non va bene. Si specifica opportunamente nell'istruzione ad resurgendum cum Cristo. La conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita né è possibile la loro spartizione tra i vari nuclei familiari. Non solo, per evitare ogni tipo di equivoco pateista, naturalista o nichilista non si è permessa la dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo. In una parola, la pratica del compostaggio umano è assolutamente e totalmente anticristiana oltre che disumana e non a caso è stata subito fatta propria accolta e normata da Stati a guida democratica quali Washington, New York, Oregon, Colorado e California. A riprova, caso mai ve ne fosse bisogno di quanto immanente, materialista e positivista quindi errata sia una concezione progressista della persona e del mondo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org